E' stata inaugurata il 7 dicembre in presenza anche del Vescovo della Dioce Sinissena Monsignor Mario Russotto la mostra fotografica dell'artista originario di Mussomeli Melo Minnella sulle tradizioni natalizie in Sicilia dal titolo in principio era la pace e nasce lo bambineggio. Una narrazione fatta di scatti in bianco e nero che catturano le emozioni di quei momenti fotografati e fanno immergere il visitatore nell'atmosfera che si respira in alcuni comuni siciliani durante il periodo che precede e segue il giorno di Natale. Dalla novenna realizzata a Mussomeli, Caltanissetta e Borgetto alla Notte di Natale a San Cipirello e Barra Franca e ancora i presepi come quello di Mussomeli, Mazzarino e Custonaci foto che racchiudono forme di devozione popolare che idealmente si legge nel cartello di presentazione e rievoca nel primo presepe vivente della storia realizzato la Notte di Natale del 1223 da San Francesco nel borgo medievale di Greccio. La mostra è stata allestita all'interno della Sala Francesca Fiandaca del Museo di Ocesano di Caltanissetta Giovanni Speciale. Accanto ai pannelli con le foto è stato inserito anche un presepe in marmola bastrino dal titolo Adorazione dei Pastori. La mostra rimarrà esposta sino al 7 gennaio 2023.